La rete agrigentina della legalità si espande. A testa alta l'associazione di promozione sociale contro la mafia che aderisce al Libera di Don Luigi Ciotti avrà una sezione a Palma di Montechiaro. L'intento è quello di dare un segnale di compattezza e unità tra territori che per troppo tempo sono stati passivi nella promozione della cultura della legalità e nella lotta alla mafia che ha potuto così operare indisturbata distruggendo le possibilità di sviluppo che la nostra terra offre. La lotta alla corruzione, l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, sono alcuni dei concreti impegni di a testa alta che si articola in diverse sezioni tematiche che affianca alle denunce e alle stanze documentate, allo studio e all'approfondimento di questioni di interesse pubblico, un'intensa attività di promozione e di sensibilizzazione sul tema della legalità. Responsabile della sezione di Palma di Montechiaro sarà Carmen Piritore che traccia così in sintesi le linee del suo nuovo impegno. La nuova sezione di a testa alta nasce dall'esigenza di una partecipazione attiva sul territorio palmese. Si tratta di una sezione i cui associati a appartengono a diverse generazioni ma che scelgono di lavorare fianco a fianco condividendo esperienze e competenze differenti. L'interesse civico e la promozione di una cultura della legalità sono gli obiettivi che vi stanno alla base. La nostra, aggiunge Carmen Piritore, è un'opposizione all'indifferenza, alla rassegnazione ormai radicata da secoli nel nostro territorio. La proposta è quella di un'alternativa, un'alternativa concreta raggiungibile solo attraverso un continuo dialogo con le istituzioni e i cittadini, la riappropriazione del territorio, la creazione di nuovi spazi di aggregazione e la lotta al fenomeno mafioso agrigentino. L'associazione ha inoltre istituito una sezione a testa alta junior con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di giovani possibili. Per i soci junior, ossia per i soci di età inferiore a 16 anni, è stato previsto l'esonero dal pagamento della quota associativa. Sarà un'opportunità per i più giovani che avranno così la possibilità di confrontarsi sulle diverse aree tematiche e di impegnarsi in percorsi di educazione alla legalità ricevendo gratuitamente materiale didattico informativo. Referente della sezione sarà il 14 annetario Tardino che con il suo intervento sul rapporto mafia politica alla prima assemblea delle associazioni antimafia anti-racket operanti nella provincia di Agrigento, svoltosi presso la sedia a testa alta lo scorso mese di dicembre, non solo ha catalizzato l'attenzione ma ha rapito letteralmente i presenti. Ringrazio l'associazione a testa alta alla quale assicura il mio impegno per avvicinare i giovani alle tematiche dell'antimafia tramite iniziative ed eventi che li coinvolgano anche nelle loro scuole, afferma Dario Tardino. Il tempo che i ragazzi trascorrono a scuola è significativo e la scuola, prima di insegnare, dovrebbe educare facendo vivere agli alunni i valori della comunità e della responsabilità.